Le meduse sono creature meravigliose con un corpo gelatinoso. È facile riconoscere le meduse. Le meduse sono affascinanti creature pelagiche dall'aspetto gelatinoso. Le meduse sono affascinanti creature pelagiche dall'aspetto gelatinoso. Le meduse sono affascinanti riconoscibili. Presentano una porzione convessa, dritta ombrella, dal cui margine pendono i tentacoli. I absorb what I need through my skin and reflect all the colors of the light I'm in. All my feathers swish through the air, air, air. So float me away from here. And fly, jellyfish fly. And go higher, 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 higher. And go higher, 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 higher. When will you see I am human? For I come from you. Your motivation is only an illusion. But the sky and the sky and sea are to the moon. So fly, jellyfish, fly Yeah, fly, jellyfish, fly And go higher, 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 high Go higher, 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 high Fly, fly Fly, fly Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti